Parte da un progetto importante che abbiamo vinto a livello nazionale, siamo arrivati terzi, quindi insomma il governo ci ha finanziato per lanciare la creatività giovanile, l'imprenditoria giovanile, abbinando la tradizione all'innovazione. Quindi su questo i vari assessorati hanno lavorato insieme, il mio e quello dell'assessore Michele Fioroni in modo particolare. Quindi il progetto partirà domani con l'uscita del bando rivolta ai giovani, che dovranno praticamente essere selezionati, poi troveranno un po' tutto sul sito del comune e appena selezionati cominceranno un percorso di formazione. Quindi a questo punto noi speriamo di dare alla città poi giovani imprenditori creativi di qualità che abbiano la capacità anche di competere nel mondo globale, che abbiano la capacità di competere in Europa, mostrano il loro merito e la loro competenza. Quindi è un progetto che parte adesso ma l'idea nostra è farlo durare a lungo e per lunghi anni in questo spazio che era abbandonato, viene rimesso a norma, viene messo a disposizione della città. La qualificazione urbana è legata anche a tutto il miglioramento che abbiamo praticamente in campo. Officine Fratte è una progettualità importante per questa amministrazione, è un progetto innovativo anche nella sua genesi, un progetto che nasce da un'intuizione che grazie alla presenza della dottoressa Pedini al tavolo ANCI ha portato il comune a competere su questo progetto, siamo arrivati terzi su 40 partecipanti, ma soprattutto un luogo in cui dare maggiori la possibilità di testare le proprie idee, la possibilità di fare di un'idea un'opportunità di lavoro, di sviluppare nuove competenze, un luogo in cui il sapere più tradizionale, quello artigianale, si incontrerà con il sapere digitale, cercando di da un lato creare opportunità di crescita e di realizzazione di progetti da parte dei giovani, ma perché no anche magari favorendo la nascita di nuove imprese. Il tutto accompagnato dal ruolo di cooperative e associazioni che hanno un ruolo fondamentale nel coordinare questo processo e con l'obiettivo anche di sviluppare nuove forme di competenze. Oggi le risorse critiche non sono ormai più i macchinari, le risorse critiche sono le competenze, la capacità di fare, competenze che siano adeguate ai tempi moderni, non più a un sapere antico, ma che tragano anche espirazioni da quel sapere antico. Quindi questo è un luogo ambizioso, è un luogo ambizioso ma è un luogo che nasce già, come dicevo, nella sua generazione, come un luogo cogenerato dalle stesse energie che lo abiteranno. Se noi pensiamo che tutti gli elementi di arredo saranno realizzati e progettati dagli stessi ragazzi che occuperanno questi spazi e saranno realizzati facendo ricorso agli strumenti che oggi la tecnologia ci offre per pensare e progettare il design, quindi dalla matita si arriverà anche a una progettazione in grafica vettoriale, ma la realizzazione di questi mobili sarà totalmente artigiana. Ecco, è questa officina Fratti, lo dice anche il nome, un'officina creativa in cui saperi diversi si incontrano e danno vita a nuove competenze.